E' arrivato il momento di scegliere la scuola superiore? Vuoi un percorso che ti garantisca un rapido inserimento nel mondo del lavoro e ti dia accesso a tutte le facoltà universitarie? L'Istituto di Istruzione Superiore Mattei Fortunato di Eboli è la scelta giusta. Tecnico Agrario, unico in tutta la provincia di Salerno. Tecnico Industriale con indirizzo informatico, elettronico ed aeronautico ad Eboli e Bellizzi. Professionale Aldomoro, con indirizzo servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Integrazione con le risorse produttive del nostro territorio. 46 laboratori di settore, alternanza scuola-lavoro anche all'estero con i programmi Erasmus, personalizzazione degli interventi, valorizzazione delle eccellenze. Laboratori 4.0, simulatore di volo. Questi punti di forza. Scegli ora il tuo futuro.